La rete ospedaliera è in quinta commissione, dopo che ci sono stati già diversi scontri sul tema tra maggioranza e opposizione. La maggioranza vuole stringere e approvare prima del bilancio, come detto dallo stesso presidente Marsiglio. Il presidente della quinta commissione, Leonardo D'Addazio, ha presentato un emendamento che sopprime i nostri, tuona l'opposizione, ma lui rimanda le accuse al mittente. Sicuramente non sarà tagliata la discussione, questa è la sesta commissione che facciamo sulla rete ospedaliera, quindi se le cose andranno come abbiamo calendarizzato faremo almeno otto commissioni, tutte di lunga durata, abbiamo fatto tre giornate intere con le audizioni, abbiamo fatto già due ore di discussione generale, quindi abbiamo dato modo di parlare a tutti e di esprimere il parere in maniera democratica. Ovviamente noi faremo la nostra parte come le opposizioni faranno la loro, ovviamente valuteremo quali sono gli emendamenti di merito e quelli che sono meramente ostruzionistici. La maggioranza, in linea generale, ha anche più volte affermato che a infastidire le opposizioni non è il documento in sé, ma il fatto che si tagli un altro traguardo importante. Per loro si tratta di una rete ospedaliera ben strutturata e omogenea su tutto il territorio regionale. L'opposizione però accusa che non c'è stato il coinvolgimento dei territori, in particolare per l'opposizione. L'emendamento soppressivo presentato da Dazio annulla tutti loro, ma assicurano che daranno comunque battaglia in aula. Una rete bocciata anche da tavoli ministeriali, dicono. Sono quasi cinque anni che attendevamo questo atto di programmazione della rete ospedaliera regionale, dopo la fase di commissariamento e tutti ci aspettavamo di più. Invece è stato tolto in tantissimi territori, in provincia di Teramo in maniera particolare, dove ci sono state delle offese profonde a tutta la sanità territoriale e ospedaliere della provincia terramana. Noi continueremo a dare battaglia, ovviamente porteremo i nostri emendamenti in aula, ma la grande delusione è quella del presidente Dazio che dopo tante audizioni di sindacati, portatori di interesse, il tutto è stato annullato con questo emendamento soppressivo presentato da lui stesso in Commissione Sanità. Un giudizio più che negativo, parliamo di un atto fondamentale in tema sanitario, un atto ormai tardivo che arriva a qualche mese dalle elezioni, per cui inutile e soprattutto dannoso, e sul quale la maggioranza ha compresso oltre l'inverosimile dei tempi. Oggi ci troviamo addirittura di fronte a un emendamento proditoriamente depositato dal presidente della Commissione Sanità per saltare anche la Commissione su quelle che sono le proposte che abbiamo depositato. È francamente inammissibile questo atteggiamento. Grazie.